Eccoci qui oggi andremo a frottare la terza prova Grazie a tutti Cosa incontriamo adesso? Ah simpatico Farei pari della mia squadra E tu pure No, sono totalmente mio perché non è il video Sì vabbè sono mio per davvero Però qui no Turbo la pressa Grazie a tutti Oh no Bene, allora dopo Bene Fate fuori il pesciolino Grazie a tutti Cosa sarà stavolta? Qua i pokemon scopriremo? Cavolo è questo Cosa? Beh, torniamo al nostro percorso No, ci vado a nuoto Vabbè, hai noi due Ah, pesciolini Non devo capire Do Tu non combatti morte Brutto strunci Ci costituirei a fare la prova così D'accordo, così sia Grazie a tutti No, ci vado a nuoto Grazie a tutti Grazie a tutti Va bene Va bene Va bene Se quella lava lo uccidermi ci sta riuscendo Ehm, io mi sono solo per dare una squadruccia così Ehm, io mi sono solo per dare una squadruccia così Niente di che Ah, mi eviti l'attacco Su, la mostra di scelte muoviti Ecco, poi se avrò che usare loro Ok, ottimo Beh, abbiamo capito un altro come va E intanto notiamo che quando è in difficoltà La forma banco si disperda Sì, vorrei che si avvolvesse quel dannato piccio Cosa ci vuole la pezzatura Cosa fa per sintesi Ehm, allora posso adesso ben metto va Che bello Che bello Che bello Che bello Che bello Che bello E viva! Sì Ciao ciao! Ci vediamo nel prossimo video!